Buonasera a tutti, buonasera a tutti, bentornati sul suro del vento, allora come da promessa il capitolo successivo che parleremo sarà Alien 3, allora, buonasera, buonasera, allora ieri si è visto di nuovo, ieri sera per avere un po' più la mente fresca, quindi si è visto la versione cinematografica, non la director cut per motivi anche diciamo di tempo e tutto, per farci un po' un'idea, comunque sia alla fine, finiti i film, li andremo a percorrere comunque nel dettaglio tante cose, quindi comunque non ci sono problemi sotto questo punto di vista, anzi. Allora, Alien 3, beh, siamo nel 1992 ed esce Alien 3, quindi già sono gli anni 90, anni che io comunque ho vissuto, e quindi per me è stato proprio l'entry level nella saga di Alien, ho già parlato nella prima puntata, come l'ho conosciuto e tutto il resto, ricordo brevemente che è stato il mio primo capitolo, quindi ho un legame affettivo che però durante comunque questa diretta non influirà, diciamo, sul giudizio che ho del film, quindi i gusti soggettivi a me piacciono tutti gli Alien, ma ovviamente per me ci sono capitoli più e meno riusciti, per molti c'è un lento decadimento dal terzo capitolo in poi, per me questo decadimento io non lo vedo, però ovviamente siamo pronti anche al dibattito e a parlare. Allora, ieri, ricapitolando, ho visto Alien 3, e la prima cosa che ho notato è che, finendo, cioè la prima cosa che ho notato una volta finito, è che io non me lo ricordavo così bello in questa maniera, non me lo ricordavo così che pregno di significato, che andremo a parlarne. Allora, come al solito ci prendiamo i primi 5 minuti per fare un riassunto. Allora, cosa accade? Arriva, diciamo, arrivano i titoli di coda, i titoli più coda, credo, più si coda, scusatemi, i titoli di testa più lunghi, credo, durano, penso, 5 minuti abbondanti, intermezzati da alcuni sequenze flash, e si vede praticamente la nave di Ripley che sembra che abbia un problema là sull'aco. E che succede? Succede che viene espulsa letteralmente la capsula, questa E e V viene espulsa, con lei, X, New e Bishop, vengono espulsi perché sembra che ci sia un problema proprio a livello strutturale, un problema appunto, come posso dire, no? Ci sia un problema nella nave, di livello tecnico. Sì. Vengono quindi sparati, e come funziona le E e V? È un emergency vehicle, evacuation emergency vehicle, vehicle, sì, va bene, dai. Cioè è un veicolo di emergenza per le evacuazioni veloci, quindi non è una nave come la Narcissus, è proprio una cosa che ti spara e automaticamente si dirige verso il primo segnale, il segnale più vicino, ecco, verso il primo segnale più vicino. Purtroppo però queste E e V è proprio un'emergenza, emergenza, emergenza, quindi è proprio una cosa che bisogna usare in casi veramente di, appunto, di emergenza, perché le atterraggi possono essere a volte fatali. Quindi, e con questa parola apro, continuo e apro il vero film, quando inizia, e praticamente nell'atterraggio sono morti tutti, tranne Ripley. E già qui è un colpo di scena abbastanza forte, perché X praticamente è stato impalato da un tubo nel soffitto, dato l'impatto con la navicella che è stato elevato, quindi anche lì, morto, trafitto. New, poverina, è affogata nel liquido criogeno, quindi... E Bishop è proprio subito un danno, oltre Beyond Reparation, cioè oltre la riparazione irreparabile, praticamente. Ed ecco, a quel punto inizia il film, inizia un film con lei che non si dà pace, che non non si prende troppo tempo per elaborare il tutto, perché io credo lo stordimento sia talmente elevato da questo evento, da tutte queste nuove informazioni, sia uscita dalla sulaco, la vita che credevi possibile, fino a un secondo prima, perché ricordiamoci che il sonno criogenico davvero ti dà l'idea che non sia passato niente, quindi c'è una cosa assurda, una cosa assurda perché praticamente questa in un secondo c'è la vita rovinata, ora, schiantandosi quindi su questo pianeta che è Fiorina 161, è un pianeta di massima sicurezza, una raffinea di minerali che poi si è stato adibito come carcere di massima sicurezza per prigionieri col cromosoma doppio Y, cioè praticamente, biologicamente uomini. quindi già da qui va da sé, no? Tutto il casino, allora lei arriva lì presa da delle persone e quindi si familiarizza un po' con il dottore, una figura medica che anche lui ha un passato abbastanza turbolento. Fa amicizia comunque con Dillon, un uomo di colore molto fedele che ha abbracciato una fede che nel mondo di Alien è una specie di fondamentalismo cristiano, una visione un po' apocalittica e anche lì comunque piano piano si trova a dover rivivere determinati eventi perché sempre il dubbio questa creatura ci sia, non ci sia e alla fine praticamente si scopre perché insieme a loro si sono portati un paio d'uova, quindi una non si sa dov'è, non si sa cosa ha fatto e quell'altra ha letteralmente impregnato un cane e dall'infatti verrà fuori questo alieno particolare, questo runner. Quindi impregnando il cane eccetera eccetera, all'inizio nessuno in questa grandissima prigione, ne ha conoscenza, ne ha consapevole fino a quando non si cominciano a susseguire l'incidente, da lì poi un escalation di violenza incredibile fino alla risoluzione finale dove vede Ripley dare la vita per sconfiggere definitivamente o almeno apparentemente una volta per tutte l'alieno. Ora, ovviamente nel corso del film lei scopre anche che il primo facehugger gli era andato in faccia e praticamente quello che porta non è un normale chessbuster ma è un royal chessbuster, chiamiamolo con questo nome ignolo, cioè praticamente è il vettore di una regina. Ora, non so se è proprio, proprio, proprio possibilissima una cosa del genere, però va bene, dai. Comunque ricordiamo che l'uovo che comunque è stato fecondato l'ha creato la regina, quindi probabilmente quello è stato un meccanismo di autodifesa, di preservazione della specie, atto comunque a far proseguire il tutto. È probabile, sì, vista così avrebbe anche un senso. Ovviamente all'entrè non parlerò della preproduzione perché queste sono cose che si parlano dopo, preproduzione, produzione, postproduzione, sono tutte cose quando si va ad analizzare un film nel dettaglio. Cioè si parla della trama, come ha detto ieri anche George, se ne parla dello scheletro, delle impressioni e di cosa ha contribuito, di cosa ha contribuito nell'universo di Alien. Ora, con cosa ha contribuito? Per me prima di tutto è un film meraviglioso. Sì, tantissimi problemi. C'è un senso di vedere un film che non enzi Alien. Cioè io capisco chi viene da Alien, dal primo Alien, e si trova al terzo. Io capisco che può sentirsi veramente spaisato. Io no, perché ho iniziato col terzo, quindi per me quello era il focus, l'atmosfera. con questo mostro particolare, va bene, ok, però queste cose poi le capisci un po' da adulto. Questa sensazione di alienazione, di che Staliano si colpisce, è anche parecchio forte, è molto violento, molto gore, come si suol dire. Ma è un racconto proprio depressivo, cioè al massimo. Diciamo che il terzo non si concentra tanto sulla figura della creatura, quanto c'è quasi una nota di margine in tutto il film. Sì, ma non una nota di margine alla Covenant. Attenzione, perché Ridley Scott ha un suo modo di fare le cose. Perché poi fondamentalmente per lui era l'alieno, il nuovo nemico, fra virgolette. Sì, l'androide, il nuovo nemico. Ma un fatto che l'alieno c'è, c'è, lo senti, lo vedi, attacca, è sempre minaccioso. Quando c'è questi corridoi, senti che c'è, oh, è lì, è lì che studia. Ma l'interpretazione di Ripley, il suo dolore, il suo dramma, mentre attraversa tutti questi corridoi, tutte queste cose, mentre cerca di dare un senso a tutta, addirittura Ripley, non come ufficiale, ma si può scappare di qui. C'è una roba allucinante, tira fuori. E, cioè, questa, come posso dire, non favola, è questa storia oscura, che permia tutto, che praticamente l'alieno è non, non più un semplicemente pezzo di carne messo lì, come Marins, via, cannonata, ma riassume un significato estremamente esistenzialista rispetto al più. Perché se il primo, anche lì, era esistenzialista, arrivava al primo, dicevi, cazzo, non siamo gli unici, forse bisogna rivedere la catena di alimentare, non siamo, quindi che ruolo abbiamo nello spazio? Ecco che arriva di nuovo l'esistenzialismo nel tre. Cioè l'idea di dire, ma allora sta cosa è destino e ce l'abbia fra coglioni ogni volta. Cosa, cos'è il collegamento fra me? Infatti bellissimo anche perché comunque questo movimento religioso, questa religione, quest'uomo che cerca comunque, Dylan, che cerca di spronare lei a reagire ad una situazione e a non togliere la, quando gli chiede di togliere la vita perché c'ha il chestbuster dentro, la stimola, come dire, no, devi andare avanti, affronta la tua. E grazie a Dylan, infatti, che poi lei affronta realmente tutto, perché io ti potevo ammazzare, ma dovevi avere te la scelta. Dovevi te trovarti davanti Bishop, che poi sarebbe arrivato e avrebbe parlato, cioè Michael Bishop, a quel punto il CEO della Wayland. E lì dovevi prendere la consapevolezza. Quindi la scelta di morire non è la scelta, come posso dire, non era più una fuga, come era prima, ma è stata una consapevolezza. Quindi la scelta di morte, di Ripley, è morto uguale, ma la prima volta la voleva imposta, la seconda l'ha scelto lei e si è tolta la vita per conto, so buttandosi nella fornace con quella bellissima scena che la regina viene fuori, lei la tiene al petto come di notte e te ne vieni con me. Ma può essere interpretata anche in un'altra maniera, o in entrambi le maniere, cioè l'una non esclude l'altra. Cioè il gesto di gettarsi, cioè nel fuoco, cioè nella lava, comunque tenendo comunque al petto quella cosa. È come se lei accogliesse il destino che gli è stato comunque dato. Sì, sì. Perché quello che è ruotato intorno a Ripley, in fin dei conti, se tu non lo chiami sfiga, lo chiami destino. Infatti ricordiamoci che poi, che poi Ripley praticamente, cioè lì si conclude la trilogia, cioè si sarebbe conclusa la storia. È successo ovviamente un casino perché credo che le persone appunto in quel tempo lì avessero voluto, no scusate che avessero voluto, avrebbero voluto una cosa diversa. Io comprendo da una parte l'esigenza di un estimatore del prodotto, però dobbiamo sempre ricordarci una cosa che non è il nostro prodotto. È un prodotto di cui noi fruiamo e noi dobbiamo sottostare alla creatività altrui. Sì, poi possiamo anche noi magari creare, fare, creare fanfiction, creare discorsi, ma Fincher non è stato scelto così a caso. Le persone dietro non hanno lavorato a caso. Quindi bisogna rispettare la volontà del produttore, la volontà del director, dello sceneggiatore, di concludere la storia in questa maniera. Perché era una storia che iniziava con Ripley e finiva con Ripley. Quindi lo xenomorfo addirittura prima, che poi l'universo successivamente si sarebbe espanso, fra fumetti, libri, addirittura oggi siamo proprio a un livello talmente vasto, non dico che è Star Wars, per l'amor di Dio, ma cavolo, qui se continuiamo così, lo raggiungiamo, è vastissimo. Però contestualizzando il prodotto, la trilogia originale all'epoca, il significato era Ripley si è portato a conserzo demone e l'ha purificato nel fuoco. Questo è il significato. E ha chiuso definitivamente questo ciclo di eventi. L'alien non avrebbe più perché nel secondo bombardano Hadley Hope e quindi lo nuclearizzano e l'alien ci sta. C'è la nave Sartanaria, anche quella degli ingegneri, vedrai, o è lì vicino, o comunque le uova subiscono un danno. Ora c'è una parte che, se vedete il solito materiale di riferimento che ho messo, che è il technical manual, il manuale tecnico dei Marines coloniali, è un po' forzatino alla fine perché sembra che in realtà ricevano delle informazioni sempre la Weyland e sembra che la nave contenga sempre le uova, quella del Judge. Sembra che non sia stata toccata, per così dire. beh, lì non è tantissimo. È un prodotto, ripeto, canonico al 100%, ma c'è quell'1% che credo che non sia da studiare ancora. Quindi, poi ovviamente è uscito dopo, no? Però l'idea era proprio questa, Ripley finiva. Allora, perché non parlo dei fumetti? Semplicemente perché ci sono dei fumetti che arrivano prima di Alien 3 e quindi continuano la storia di New, di X e di Ripley. Non mi è piaciuto, non mi piacciono perché li vedo troppo fanservice, cioè, ma nel senso... come di no? Beh, è forzatissima come cosa. Non mi piace lei che ritorna nella nave, non... lo trovo... una cosa che per me quando è conclusa è conclusa, non so se lo dite. Cioè, Alien 1, la nave, il Judge è not fine, basta, è lì quello. Non si può ritrovare 100 volte. Ripley ha fatto il suo percorso, New ha fatto il suo percorso, Poretta. Bishop, che è bellissimo, ma quando lo riaccende, l'ha visto, soffro. Come fa a soffrire? E lì ti si chiude il cuore perché dici, mamma mia, qui il cuore si chiude lo stomaco e dici, madonna, meglio essere nulla. E lì capisci che questo Bishop veramente c'è la conferma di cosa era, che era forse qualcosa di più. Anche lì ritorna, si butta alla base poi di un eventuale no. Perché dire Scott, ma vuoi che l'ha visto, l'ha valutato. Infatti tanti elementi viene preso, anche la figura di contordo dell'Alieno, perché nonostante ci sia il runner, ripeto, e sia assillante, che questo piglia tutti, eh? Sputa direttamente l'acido, è una bestia questo, ma non puoi che concentrarti su di lei, sul replay, su questo dramma che ha avuto e su tutto il suo percorso che fa. Rivive dei trami, di nuovo quel capo lì, se figurati la creatura all'acido dai, è il primo e viene preso. Quindi per dire, sai quello, il capo dei prigionieri, il guardiano, ecco. Giocava alla pallina e poi la pallina arriva a scaccare e ha detto, la pallina non la voglio. Gioco con te. Gioco con te. E poi bellissimo che da qui c'è una base di un universo espanso che è ottimo, che tutt'oggi, tutt'oggi è molto forte. Nel Welland Utani Report abbiamo un estratto del libro di Morse, che è l'unico prigioniero che si salva. E ha scritto The Space Beast, cioè la bestia spaziale, dove lui ha una testimonianza. Nonostante i tentativi della Welland di bandire il libro, cioè lì ci si trova su un network galattico, la bandisci, e la gente ci crede. Ci crede e tutt'oggi che faticano la Welland a, ufficialmente nel canone, questo è uno dei problemi. Perché metti caso qualcuno vede Stalin e lo va a riportare in giro un pochino, allora fanno due più due la gente. Perché per ora hanno avuto un bel culo. Nel primo non stroma è andata, nel secondo, cioè la cosa, Sebastopol è andata, la Sulaco è andata, Ad Leop nuclearizzata, il terzo chiudiamo battenti e smantelliamo tutto. E qui ci porterà poi appunto a un quarto. Il quarto capitolo, ragazzi, è dura parlando, lo devo rivedere, infatti nella prossima puntata, credo che si possa fare anche domani l'altro, perché domani sera magari ce lo visioniamo. E il quarto è bello, è un bel film, esteticamente bello. Ritorno ovviamente replay con un espediente estremamente forzato, però va bene, anche lì ci sono delle immagini molto belle, dei significati molto belli, delle cose molto belle, ma le analizzeremo al momento. Continuando col terzo, andando avviandoci verso la seconda parte della discussione, quindi parliamo, riflettiamo sulle persone, cioè sulla ricezione della persona di questo prodotto. non è un prodotto facile. Non è un prodotto facile da digerire, perché ripeto, farti fuori tutti i tuoi beniamini, già è un bel colpo. Già non sei tanto predisposto, perché te lo fanno i primi cinque minuti. Quindi il resto del film è come lo passi, in uno stato mentale che non è tanto consono ad accettare, no? Tutta la storia. quindi è logico che già il pubblico, purtroppo, il pubblico generalista si chiama apposta perché è un semplice fruitore di un supporto audiovisivo, pubblico medio, ma medio non perché è di intelligenza, ma perché va a vedere un film della sua saga preferita. Poi aggiungiamoci il fatto che lui la vogliono proprio togliere per concentrarsi sul ripre, perché se no non aveva quel valore. Lei si fosse uccisa, non avrebbe avuto quel valore il film. Quindi li tolgono e tutto. E arrivare a capire questa cosa dopo che te inizialmente, nei primi cinque minuti, cioè questa, non è facile. Quindi io posso capire. C'è un canale che, vissi di già, che analizzava tutte le recensioni con una stella sui IMDB. C'è uno che fece una recensione e poi ne ha fatta un'altra vent'anni dopo. Cioè, la fece all'epoca, era rifatta oggi, e conferma che non gli è piaciuto. Ecco, le motivazioni io le ritengo un po'... Cioè, allora, chiariamoci bene, le ritengo un po' alla Prometheus, ossia la Covenant. Le ritengo un po' inconsistenti, cioè... Ma io l'equipaggio non avrei fatto questo, ma però... Speriamo che arrivi la Director Cut dove c'è Walter che controlla l'aria. E così si apisce che il pianeta è respirabile. Una roba che cosa ti serve? Una scena di 10 secondi in più in una doccia. Cioè, ti avessero tagliato la scena di... Di Ozzymandias, avrei detto. No, ma poi sono visioni che comunque, come hai detto tu prima, cioè... Bypassano totalmente la visione di un artista, o di un produttore, o di uno scrittore, e così via. Sì, avessero detto, to, ho tagliato la visione di Ozzymandias, la dio, eh sì, cazzo, lì mi ha tagliato un bel pezzo. Quando molti dicano Prometheus sia un film che anche lì... Ma il dialogo con l'ingegnere hanno tagliato, hanno fatto bene, fidatevi, hanno fatto bene. Perché quello dove l'ingegnere deve rimanere così, deve assurgere al suo ruolo di creatura dello spazio, che non comprendi. Perché non la comprendi proprio. Sì, è come mettere nell'ultima scena di Lost in Translation nel commento parlato, invece del silenzio. Esatto, che poi fra l'altro è scoperto cosa si sono detti, e non ho manco aperto, non lo voglio manco sapere. Ma non perché, perché... Quindi, ripeto, già quindi capirete che a me Prometheus e Covenant sono piaciuti. Non solo mi sono piaciuti, ritengo due film migliori della fantascienza. Credo che Covenant sia il mio film preferito. Ovviamente mi attirerò, tra virgolette, una sequela di lamentele per dire, no ma guarda, ma ci arriveremo a parlarne. Spero non che il dibattito o la mia parola serva per imporre una visione, quanto per stimolarvi a rivederlo e capire la bellezza che c'è dietro questo film. Però, ritornando ad Alien 3, io ho delle critiche un po' inconsistenti, tipo, vabbè, ma allora da dove vengono. Ho capito, ma... E lei come fa a sapere questo? Sì, è vero, non è perfetto Alien 3. Non dico che sia perfetto, perché la perfezione a volte, ripeto, non si deve cercare. Non dico che ha lo stesso impatto di un Colossal come il primo o il secondo. E non dico nemmeno che comunque è un prodotto che è nato con un'idea chiara e tutto. Ma quello che ci siamo trovati di fronte, togliendo delle sbavature che possono dar fastidio, ma a me sembra un peccato per queste sbavature non analizzare un film, non capirlo. A me sembra... Ora, io capisco che se io mi invento a dare tutte le spiegazioni, io qualsiasi film di fantascienza che a voi piace, e mi metto a fare le domande, capirete che ci sono delle inconsistenze. Ma perché comunque la fantascienza di per sé è un po' inconsistente. Bisogna anche andare a vedere altrove. Ora, non dico... Qui si parla anche di buchi di trama. Io sinceramente buchi di trama non ce l'ho visti. Ora, e ho visto la versione cinematografica. Immagino quando vedrò quella completa, che non mi ricordo... Sembra mai vista, fra l'altro. Credo di sì, eh. Non lo so, però. No, credo di no. E poi magari appunto ne riparleremo, ma questo anche per causa di tempo e coso. Però non ci vedo buchi di trama. Io vedo tranquillamente un evento. La regina, cosa ha fatto? Era sulla... Era praticamente sul... È entrata sulla sulaco e ci avrà piazzato d'uova. Cioè, così, appunto, per preservare la razza. Va bene e forzato, ok? Ma ragazzi, se no, festa finita. Il 3 cosa do... Cioè, il 3... Come se no si sarebbe sviluppato. Ce l'ha un'idea, Neil Klomp... Bump... Ora, non mi ricordo mai il cognome. Neil Blomkamp. Blomkamp. Di District 9. Bellissimo film. Che avevamo una bella idea. Io ripeto, ho visto i concept e mi sono molto piaciuti. Ma, per fare quello, si sarebbe dovuto togliere dal cano nel terzo e quarto capitolo. E... No. No, non si può fare una cosa del genere perché significa anche dare un colpo di spugna a dei significati per me. E anche al lavoro altrui. E anche al lavoro altrui. Mi dispiace, infatti, che Camerund, quando è ritornato, lo lessi. Io, per esempio, Terminator vi di solo il secondo. Ho visto solo il secondo. Bellissimo film, fra l'altro. Ma mi dispiace quando, dopo tot e sequel, o prequel, è arrivato lui ed è fatto man bassa. E ha detto, quello non è canonico, questo è dopo Terminator 2. E io penso a quelli che ti hanno seguito finora. Cioè, in fin dei conti, io... Allora, non so se Cameron ha seguito tutti i progetti. O li ha supervisati. Non lo so. Cioè, comunque l'ok, come nel caso di Scott, qualcuno l'ha dato. Sei produttore. Quindi, Scott, penso che... Comunque Walter Hill. La visione ce l'aveva. Lo screenplay ha fatto Walter Hill. No, anche prodotto. Prodotto Alien? Sì. Ah, no, io... Producer... Guardo di retto. Prodotto da Walter Hill. Sì, ci ha messo co-prodotto, ci ha messo un paio di milioncini, sì, magari. Cioè, non era l'unico nome, però comunque ha prodotto. Sì, perché è difficile, perché poi quando ti arrivi e dici... I fan, però, finora li hai presi con una canonicità, hanno studiato, ti hanno mantenuto il canone, l'interesse. È un colpo un po' basso, io lo reputo. Cioè, arrivasse ora un capitolo, mi diano... Oh, quelli che hai visto ora, Covenant e Prometheus, cancellali. C'è un altro? E io dico... Madonna di... Cioè, forse può sartanare a tutto, perché io dico, no, fermi tutti, oh, oh, petizione, quanti siamo? Cento persone, prendiamo l'aereo e andiamo lì, accampiamoci. Però non c'è la volontà di fare questo, perché Ridley Scott ti spellerebbe vivo. Menomale. Ma, però, parlando del... E qui ci avviamo alla terza parte, e qui gli eventuali legami. Parlando del... La serie TV che uscirà, e c'è già un film di Alvarez, che deve uscire, lo Stand Alone. Io non so cosa pensare della serie televisiva. Già sono liccati, hanno liccato, quattro nomi. Dei titoli, sai? Dei... Come... Dei titoli degli episodi. Mi sembrano nomi normali, vabbè, Observation, roba del genere, vabbè, ci sta. Però, è come io, su del parere di Ridley Scott, l'alien, in quanto creatura, ha esaurito il suo scopo. Ora devi mettere l'alieno, devi mettere l'umanità stessa, nel tutto il calderone. Non può esserci, e ripiglio il Vesager, e ripiglio l'alien. Perché poi si rischia di fare come i tanti film slasher che sono usciti sotto la scia di Scream. Sì, e ti spaventa, e non sai cos'è, e arriva l'acido. Ora, la gente giustamente... A parte che diventa scontato. Esatto, ma io, come creatore di storie di Alien RPG, io me ne accorgo che è una formula strabusata, e cerco, nelle mie storie, di introdurre concetti nuovi. E l'alien, molte volte, ha voglia se è parallelo, cioè se è sullo sfondo. Perché è come Walking Dead. A un certo punto lo zombie ti può mangiare sempre a vita. A volte è giusto che sia come sfondo resti. Come fastidio per essere come catalizzatore di determinati eventi. Esatto, io ho letto, sto leggendo Cold Forge, ed è bellissimo, perché è una storia da due punti di vista. Da una ricercatrice, che vede nel Plagerus Praipotens una sua cura, una sua condizione di salute, quindi la vede come salvezza, questa condanna dell'umanità, perché questo è un araldo dell'inferno, e invece un agente della compagnia, che praticamente lui ha interesse in questi esseri. E ora, ovviamente, si creano delle situazioni interessanti. Ecco, quello per me è un bel libro. Ora, per me quindi dovrebbe andare lì, la serie televisiva, io non so, non ho per ora strumenti per poterla valutare, eccetera. Però, va bene, è vero che non ti cancella nulla, però anche lì cosa hanno detto? È il Corel Prequel, prima. Sulla Terra. Senti nell'aria che vogliano non attribuire a tutto David, tutta sta cosa. Senti nell'aria che vogliano un po' accontentare chi si è lamentato che David avesse quel ruolo dominante nello studio dello xenomorfo. E poi c'è un film di Alvarez, che sinceramente Alvarez, come regista di fantascienza, devono prendere parecchia gente che li stia dietro, perché questo non lo so se... Ma sai, può essere interessante? Cioè, io non voglio mettere le mani avanti. No, io... Tanto o meno, vedi... Come si chiama lui? Fincher, no? Fincher comunque non ha avuto alle spalle, penso. No, no. Un film di fantascienza. No, certo, no, no, certo. Però, però è un discorso che... La fantascienza, ma davvero parliamo di fantascienza. Lì parliamo di... Delle persone che non hanno né fucile, niente. Hanno asci, anzi ricorda molto un monastero. Cioè, quanta fantascienza c'è lì in tre. Cioè, c'è l'organismo, sì, c'è il setting, è il background, ma non è fantascientifico come il primo e il secondo. Primo se è in tutta quella nave e cose, c'è l'esplorazione di LV-426, nel secondo colonico. Cioè, senti... Cioè, il terzo non senti la pressione sci-fi. Sci-fi, capisci? Cioè, se io ti prendo uno screen, un frame, di loro lì dentro, ti dici, ma questa è una fabbrica. Ok, però è chiaro che quando propone il prodotto, è chiaro che lo devi comunque catalogare. Sì, ma ti dico, Fincher, però, non è che ti ha fatto uno sci-fi puro. Cioè, nel senso, comunque, ha girato in ambienti che la fonderia, e la trovi a tre chilometri da casa tua, un anostromo, no, una colonia, no, non so se... Ecco, quindi Fincher è stato facilitato anche per questo, però comunque grande regista. Io sono della sua stessa opinione, non voglio, per l'amor di Dio, io metto le mani avanti e di per me sarà nazza, no, io semplicemente spongo un dubbio e mi dico, ma sarà all'altezza di Alien che è un brand importante? Cioè, parliamo di Alien, ora ragazzi, si può scherzare quanto ci pare, ma non è preadato che ha avuto un tracollo dopo Or2. Qui parliamo di una saga che, bene o male, ha definito la fantascienza. Ho paura che facciano come Jason, no? Jason, quanti ne hanno fatto? Sì, ma era di Dio, lo vedi Jason X. Più di 13, capito. Sì, vedi Jason X, che dici, che è sta cazzata? Poi successivamente capì che è una parodia, ma appunto è una parodia, ma è una cazzata. Però che era sullo spazio, fra l'altro, una buiata. Boh, è garbata, a me non è garbata, lo vedi una palla. Sì, sì. Sì, è uno slasher, ma uno slasher, boh, c'è proprio... Ma sembra scritto da un bimbetto, no? All'arima è mezzo robot, c'è capito? Mezzo... Non so cosa fa, poi sto via Immortal, una cosa che va bene. Non dico, per l'amor di Dio, che sia un cesso di film, però a me una palla è stato. E ripeto, Alien... Io, ragazzi, io dopo Covenant, dopo comunque l'ottimi libri e manuali dell'RPG che sto leggendo... Mazza, a me, se sorte fuori qualcosa di storto, sono lì subito ordito. No, non può essere così. Quindi per me è una cosa che proprio mi va, ecco. E quindi devo anche... Sarà difficile la prima visione. La prima visione, prima di tutto, non c'è. Non c'è né Scott, né nessuno. Quindi sarà difficilissima. Ma difficile. Perché se poi mi inquadrano una nave, un qualcosa in CGI, porcaro, non la CGI, capolavoro di ridere Scott è quella proprio, sai, che c'è David dentro il planetarium, che c'è... Vabbè, giratemi una roba del genere e siete a posto. Cioè, se mi fa qualcosa... Io già non dico, va bene, ok? Non pretendo la capacità fotografica di Scott, perché comunque anche Scott, ricordiamoci, Cameron ha detto su Covenant, è un film, io comunque non l'avrei prodotto perché ho altre idee. E certo, è vero, ognuno ha i suoi temi. Cameron, per esempio, era più cosato, non lo produci. Io lì, il commento ha detto, ma ok, però mi importa una sega, meno male, ho avuto Covenant. Ma non perché odio Cameron, per l'amor di Dio. Ha creato una bellezza, che è Aliens. Però... Cosa toglieresti? Cioè, non posso togliere il primo. Cioè, come fai? Cioè, è una roba allucinante. Quindi per dire, come fai di... Ora, come fai di togli Covenant? Ma ragazzi, ma... Vabbè, poi... È impensabile. È impensabile, vabbè, ma poi se no si va su Covenant. Ora, quindi... Questo Alien 3, per me, è stato veramente, di nuovo, un'esperienza importante. È stato bello. È stato anche pregno di significato. Sì. E io credo che proprio... Lo rivedrò. Con una versione proprio... Rivedrò la director cut. Ma perché proprio... Quell'atmosfera... Cupa... Minacciosa... Piena di insetti... Di sangue... Di sporcizia... Non funziona nulla in quella... In quella fabbrica... Può ti dare l'idea di un posto morto. Cioè, un posto dove sta avvenendo un'apocalisse. Questi hanno vissuto la loro apocalisse. No, no, il pezzo che erano all'inferno. Infatti, bello che gli diciano il nome il drago... Il dragone è chiamato lì, no? E... Ora capisci quello screen che ti feci vedere... Che c'era anche... Prima del newborn c'era lui così... Che sembrava... Infatti, se lo vedi... Ha un aspetto diverso. Il testa ce l'ha incollata, l'ha visto? Quando si mette... Così, sembra che ce l'abbia incollata... Sembra faccia una cosa... Poi... Erutta dal piombo fuso. Una roba allucinante. E... E quindi sì... È un posto infernale quello lì. Io... Tra l'altro non so che altro aggiungere su Alien 3... Perché... Credo i significati li abbiamo... Esplorati tanto, quasi tutti. Però... Comunque un paio di domande, come al solito ci sono. Diciamo... Diciamo... Te che comunque ha... Come hai reagito... Come hai preso... La morte dei... Dei protagonisti del 2... Allora... Allora... Diciamo un fatto... Per me è un'enorme cavolata affezionarsi a qualcuno in particolare... Specie quando si tratta del racconto di qualcuno... Della visione di qualcuno... Quindi... Se è un motivo di trama... Se per motivo di trama... Questo è funzionale... Per me non ci sono problemi... E... Comunque cosa ti ha dato a te? Che emozione ti ha dato? Non vederli più? Non vederli più? E' chiaro che ti... Ti mette nello stato di Ripley. E' chiaro che Fincher ti... Ti chiede di medesimarti, eh? Infatti è molto bella quella... Quella scena dove... Visto che c'è il funerale... Arriva Dillon... E... Con la musica... Tutta la cosa... E c'è questo sacro... E profano... C'è quei... Mentre c'è la... La cremazione di questi corpi... C'è la nascita... Come un fiore nasce... Boom... E viene fuori Stalin... Che cosa? Riprovevole... Perché è proprio riprovevole... L'Alien 3... L'Alien 3... Cioè l'Alien 3... L'Alien del terzo capitolo... Il Randel... Proprio riprovevole... Quasi schifoso... Cioè più schifoso del primo... Sì... Perché il primo è lì... Fazzi sua... Oh ma poi in realtà... Non è che vedi... Ti ricordi quando fa... All'inizio nasce... No? Fa la bocchina... E c'è quella... Roba appicciata... Tutto poco... Quella... Quella sacca addosso... C'è una roba allucinante... La placenta... Una roba... Sangue assecchiate... Cioè... E parliamo proprio del runner... Allora... Come alien... Come tipo di alien... Perché poi sai... Si dice... Runner... Si tende a vederli da un punto di vista... Sì... Importante... Biologico e tutto... A livello estetico... Ti è piaciuto a te? Partiamo dal presupposto che il concept... Da cui proviene l'alien... È già... Già una base forte... Quindi tutto quello che ci ruota attorno... Secondo me è altrettanto forte... L'hai trovata altrettanto simbolico? Chiaro... Sì sì... Io ho trovato questo alieno... Appunto più animale... Cioè come se... Come creatura più... Veramente infernale... Cioè mi spiego meglio... Il drone... Se si inquadra bene... Cioè che hanno tutti i pezzi... Cioè pezzi... Sembra... Fusione fra metallo... Ferro e organo... Questo lo vedo più ferale... Più animale... Anche quando sta lì... Che lei tenta di tirarlo via... Che lui fa così... Scote la coda... Lì in quel buco... Che lei le afferra la coda... Mamma mia... Una roba... Anche quello... Un rapporto che non si è mai visto... Cioè... Tocchi la coda in alien... È come se fosse... Un design... Avesse... Come il reso selvaggio... Il design di Giger... Sì sì... Ed è chiaro che deve... Deve comunque... Sottostare delle regole... Ogni creatura di alien... Sottosta delle regole... Sì sì esatto... In questo caso... L'animale... Rappresenta... A parer mio... Anche la condizione... Di tutti gli altri detenuti... Va va... Spiega meglio... È interessante... Cioè... Queste persone comunque... Perché sono andate in carcere... Perché comunque sono... Stupratori... Assassini... Sono stupratori... Assassini... Esatto... Che comunque... Si sono arresi... Alla... Al proprio stato animale... Eh... Sì... Sì... Quindi... Per degli animali così... Tra virgolette... Chiaramente ogni personaggio... Ha il proprio grado di profondità... Sì sì... Capisco... Ci vuole un altro animale... Ok... Ok... Quindi... È bella questa cosa... Bella... Interessante... Cioè... Tu dici che quindi... Non ci avevo mai pensato... E proprio... I detenuti sono lì... Perché hanno... Si sono arresi... Al lato più basso... Mano animale... E come punizione... Il demone animale... Mazza... Oh... Questa è forte... Quasi una cosa dantesca... Se ci fai caso... Eh... Guarda... Questa è una cosa forte... Complimenti... Bel ragionamento... Mi è piaciuto molto... Ora te lo rubo... Puoi prenderlo... No no... A parte di scherzi... No... Molto bello... E sì... Ah... È vero... Sì... Molto simbolica come cosa... Molto bella... E... Fra l'altro... Per il discorso invece... Del rapporto... Che... Vedi... Ecco... Io c'ho sempre visto un po'... Questo rapporto era particolare fra lei e il dottore... Quasi come se fosse nato... Un po' per sviare, no... Sempre la domanda... L'attenzione... Lei non voleva... Essere esplorata... Cioè... È più essere esplorata... Corporalmente... Fisicamente... Che mentalmente... E io credo che al momento che... Lui racconta la sua storia... Una storia che fra l'altro... Anche lì, no... Ho fatto il turno di 36 ore... Sono uscito... Mi sono ubriacato... Però anche lì... 36 ore... Mazza... Che turno devastante... Quindi... Errore umano... Sì... Ma che condizioni... Sto lì lavorava... E poi è lo stesso numero di ore... Sì... Come fanno adesso... Sì... Infatti questi... Infatti infermieri, dottori... Molte volte li trovi all'ospedale... Molto indisposti... Ma non perché... Ovviamente odiano la persona e tutto... Ma perché... Sono stanchi... Sì... Stanchi e nervosi... Quindi è anche comprensibile... Da un certo punto di vista... Che poi se... Se guardiamo allo stato attuale... Delle cose... Con quello che è successo con il Covid... No ora sono... È stata fatta... È stata fatta una ricerca... Che dice che appunto... Sono stressati... Sono stressati... E molti... Molti... Dicono di avere un crollo emotivo... Boi... Ma quella è roba... Quella è roba da PTSD... Quella è roba da stress post-traumatico... Sì... Cioè... Aver fatto fronte a una roba del genere... Cioè... Lì moriva la gente... Cioè... Ne era mica i discorsi... Quindi sì... Io sono d'accordo... Quindi sì... Ero d'accordo con te... Ma ti dicevo... Quindi questo rapporto che è bello... Quando dice... Quindi ti fidi delle mie iniezioni... Lei tipo li sorride lì dal braccio... E... Vedi... E arriva l'alien... Ma... Perché secondo me il dottore... In quel caso... Perché è stato inserito? È stato inserito perché... Perché... Doveva fungere da... Canale di... Non di sfogo... E neanche di... Doveva essere il... Doveva essere ecco... La distrazione adatta... Per farle sentire lo stacco... Prima della scoperta... Capito? Perché lei... Si stava... Perché... Parliamoci chiaro... A parte il fatto che questa qui... Poverina... Non aveva... Non ha avuto comunque... Contatti stretti... Sì... Si pensava che comunque... Se ci fossero state... Le condizioni... Col caporale X... Sarebbe anche nato qualcosa... Esatto... E... Ci sta... È stato fuori del tempo... 60 anni... Cioè... Perché... Cioè... Quando tu hai voglia di impegnarti con qualcuno... È chiaro che... Non svidi i discorsi... Anzi... Ti fai conoscere... Mmm... Cosa che non ci sta... Con quest'uomo qui... Mmm... Mmm... Al di là... Cioè... Al di là del discorso che poteva esserci... Io non credo che Ripley... Non abbia detto tante cose... Perché... Davvero... Aveva paura di non essere creduta... Perché quest'uomo comunque ti ha dimostrato... Che... Eh... L'operazione... A Newtel ha fatta... L'autopsia... Anche mettendosi contro il direttore... Esatto... Quindi si è preso delle responsabilità... Responsabilità che lei in fin dei conti non si è presa... Che tipo di responsabilità? Un carico emotivo... Cioè... Un carico emotivo nel senso... Una responsabilità emotiva per su un'altra persona... Ho capito... Ho capito... Sì... Quindi te vedi... Quindi te... Fra i due... Io penso che... Lui davvero... Li voleva tanto bene... Sì... Cioè... Lui sì... E anche... E credo che... A suo modo... Anche lei stava incominciando... Perché... Anche quando un uomo... Ti apre il cuore... Davanti a te che sei una donna... Una donna... L'ha vista... L'ha fatto il sorriso... E gli ha dato... Non può che... Che gli mostri il tuo lato più vulnerabile... Non può che... Sentirsi quindi speciale... E... La figura del dottore è una figura... Che... Ora io come dottore... Sembra che non me ne freghi per il nome... In realtà... Perché io con un uomo mi faccio cacare... Eh... Tranne se le vedo cento volte... Allora lì per osmosi... No vabbè... Stessa cosa io... E... Mi ricordo Dilo... Vabbè... Ma Dilo Nernerone... E un po'... E come fai? E... E quindi... Ecco... Eh... Sì... Quindi... Sì... La distrazione no... Mi torna... Un bel discorso... Sì... Ecco... Appunto... Parliamo di Dilo... Dilo... Io... Credo che lui sia stato proprio... Il capo... Non quanto... Un capo... Una guida spirituale... Esatto... Di queste persone... Che comunque... Hanno perso un lato umano... Irreversibilmente... Perché quando compie omicidi di massa... Ammazzi 20 persone... Che dove qualcosa a vita te la porti... Cioè proprio... Quindi... Non c'era... Una ricerca di salvezza... Perché attenzione... Questa religione non proponeva la salvezza... Quanto la fine... L'Apocalisse... Però... Di far fronte... All'Apocalisse... Da uomini... Non da pecore... Quindi voi... Siete uomini... Siete condannati... Siete peccatori... Ma... Potete fare... Potete redimervi... Nel momento della vostra morte... Cosa che hanno fatto... Questi disgraziati lì... Hanno tentato di... Potevano di andare a fine... Invece sono messe anche lì... Ora... Non che hanno sviluppato un'empatia... No... Non guardiamola così... In maniera adulcorata... Buona... Sentimentale... L'idea proprio di dire... Infatti dopo il discorso di Dino... Dice... Va bene... Vi ammazziamo sto figlio di puttana... Dice... Ad Alien poi... Cioè... Mi faceva ridere... Un po' mi ricordava anche Parker... Nel primo... Ma le ammazzo il figlio di puttana... E se ne voce... Sa dove se ne va... Quindi... C'è questa storia di questi qui... Che affrontano... La loro prova finale... Con Dillon che dice... No... Oh... Io ho parlato finora... Io devo essere quello che... Alla fine... Dimostro... Che è così che si affronta la morte... Si leva l'occhiale... E accoglie anche lui... Però... Fa una resistenza... Fenomenale... Ma chiamiamola un... Una resistenza spirituale... Sì... A quel punto... Lui doveva... Lì... Perché se ne dice... Poteva andarsene... Per attirarlo di più... No... Sa... Ci poteva... Ci poteva rimanere il replay... Poi lui il replay ha dato via... No... Potevi fare un'altra maniera... Lui doveva rimanere lì... Perché lui doveva affrontare... E doveva dar credito... A tutte le cose... Che ha sempre detto... Se no... Non sarebbe valso nulla... Perché... Perché... Il resto come ogni cammino spirituale... Esatto... Perché... Deve dare un... Una dimostrazione... Perché... Il seme deve crescere... Esatto... Perché pontefichi... Sulla morte... Sull'affrontarla... Su tutto... Devi esserlo pronto... E lui l'ha dimostrato... L'ha dimostrato alla grande... E quindi dillo grande figura... Grande figura che... Ripeto... Io credo... Che comunque anche il fatto che lui tenesse anche a bada... Con la violenza... Quindi non era la classica religione... Eh... Baciate... No no... Via... Sprangate... Perché... Erano animali... Erano persone peccatori... Erano persone... Che non avevano un'etica... Erano persone... Deprecabili... Ma meritavano la possibilità di affrontare la loro fine... Chiaro... Se poi pensiamo che... Cioè... Il fatto è che sottolineano spesso e volentieri... Soprattutto il direttore del... Del carcere... Tra virgolette... Che finora non hanno avuto problemi... Proprio perché non hanno avuto stimoli esterni... Quindi di conseguenza... Nel momento in cui... È arrivata Ripley... Si è manifestata... È arrivata a galla... La tentazione... La tentazione è quello che è la... La... La natura animale... Sostanzialmente... Sì... Sì... E... Poi... Ecco questi... Quindi chi dice che non c'è personaggi... Morts... Morts... Vogliamo parlare di Morts... È colui che ha dato il viattuto... Il drago... Questo è impazzito... Poi raccio... Madonna... Ha visto quello... Ma colui che poi alla fine aiuta Ripley... È... Che... Anche questo... Alla fine... Tutti... Hanno un ruolo più o meno... Sì... È vero... Non saranno tutti Marines... Che ovviamente erano molto iconici... Ma... In fin dei conti cosa c'è di iconico... In un... In un omicida... C'è... Capito... Dovevano... Darti le figure chiave... E quell'altre... Sia per esigenza narrativa... Dovevano appungere anche da sfondo... Ma l'importante era proprio questo... Che ci siano state delle figure proprio cardini... Che in qualche modo... Abbiano portato avanti la storia... Ripeto... Per me ci sono state... Non sono per niente d'accordo... Che non ci siano state figure cardini... Anche questa è una critica... Che non appoggio... Non appoggio minimamente... Ora... Ripeto... E questa è... Ora io non voglio smontare... Punto per punto le critiche... Perché ripeto... È un film... Che è però... Un'altra critica... È la visuale insuggettiva... Dell'alien... E ma come lo facevi lì... Nei corridoi? E come facevi a riprendere? Cioè... Avete visto un casino? A parte che erano stretti... Sì... Poi... Quindi... Cioè non ce lo vedi... Io invece... L'idea di vedere questi che scappavano... Da un punto di vista... Alieno... Boh... A me è piaciuto... Ci sta... Poi è una cosa che se non sbaglio... Viene riprodotta pure in Covenant... Il punto di vista dell'alieno... Sì... Brava... È vero... In Covenant... Per un per breve tempo... Grazie... Addirittura... Scott aggiunge la patina... La membrana... Sì... Sì... È vero... La membrana... Comunque... Se posso aggiungere qualcosa... Certo... Riguardo a quello che hai detto... Riguardo la critica che fa la gente... Riguardo... La mancanza di un... Di una personalità forte... Ascordiamo che comunque tutti i detenuti... Cioè... E questo ce lo fa... Capire comunque il regista... No... Il fatto che siano tutti uniformati... Che siano vestiti tutti alla stessa maniera... Tutti con lo stesso taglio... Indica probabilmente anche... Il concetto che questi detenuti... La loro fratellanza... Le ha resi una cosa sola... Sì... È un corpus unico... Dove si ergono ovviamente... Le personalità di spicco... Il medico che non far parte... Dillon che è la guida spirituale... Esatto... Sì... Sì... E questo... Viene rimarcato anche nella scena... In cui... Devono... Devono... Cioè... Devono far fronte all'alien... No? Sì... Perché tutti sono una catena di montaggio... Se sbagliamo... Non sbagliano tutti... Sì... Anche questa... Ottia... Stasera... Sei... Sei on fire... Come si so dire... In americana... Sei scatenata... Sì... È vero... No... È perfetta... È perfetta... Non a caso appunto... Ti voglio per fare questa analisi qui... Perché te c'è una mente più libera... Più fresca... Io so... Troppo... Porte... No... Non è vero... Rimango troppo secco... Non fare pietoso... Perché non fa pietoso... Ecco... E quindi... La bellezza di... Appunto di questo... Di questa cosa che... Appunto hai detto... E... A me... È dispiaciuto... Vedere poi questa... 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 Questa fine fabbrica che si chiude... No? La fabbrica che è la fine del film che si chiude... Perché dici... Sì... Prima... Era un senso di desolazione... Ma ora lì nulla... E... Boh... Cioè... Proprio mi dà l'idea come disse... È concluso tutto... Sei spento... Quindi... La fornace si spenge... Come si spengono le candele... Di una chiesa... Si spenge... E si è spento... E si è chiuso... Tutto... Lì... È... Ti ricordi la tal... La tal... Come si dice... No timeline... È... Comunque il titolo del... La tagline... La tagline... No? Del... Del primo alien... Sì... Nello spazio nessuno potrà sentirti urlare... Esatto... Questo non è nient'altro che lo stesso concetto... Tutto quello che succede a Ripley... Succede a Ripley e a nessun altro... È un discorso circoscritto... E la gente fuori non sa niente... Sì... Perché infatti... È una cosa così... Se ci ragioni bene... Questa volta è guerra... Ma... Guerra da chi? Da parte di Ripley... Sì... È vero... È vero... Quindi è un... Cioè... Il viaggio che ha fatto Ripley... Paradossalmente l'ha fatto dentro se stessa... Cioè è un... È uno scoprire... Piano piano... Quello che è in grado di fare... Ma lo sai qual è la... La potenza ha proprio... Interiore... Interiore e femminile... Ma qua... La frase bella è... Io non ricordo un momento nella mia vita che tu non ci fossi... Cioè... Se non è destino questo... È proprio l'ineluttabilità... E... E... Sì... Io credo che sia una delle cose... No... Confermo... Molto... Il terzo... Bellissimo... Lo confermo... Più ci ragiono... Più... Più riesco... No a trovarmi i miei significati... Ma quello che mi ha dato... È quello che per me... Sotto sotto... Nasconde inconsciamente... Quindi non lo riesco a vedere come una cosa... Vabbè ma se è soggettivo... Piace a me... Queste cose ce le vedo altro che io... No... Io... Io sento... Analizzandole bene... Che ci sono queste cose... Sì... Che ci sono... E... E quindi... Per dire... C'è tanto... C'è tanto da... C'è tanto da scoprire... Che poi magari poi viene... Si viene fuori fra un po'... Ci riviene in mente qualcosa... Ma ovviamente tanto ci ritorneremo... Torneremo a parlarne in un modo o nell'altro... Eh... Dico... Da considerare che poi quando si toccherà Prometheus... Sarà una live da 10.000 ore... Perché Prometheus... Io dico lo scheletro... Perché poi un... Un va aspettate che vi parli così come è... Perché Prometheus è una roba... Covenante poi... Facciamo direttamente notata... Perché... Perché è troppo... Quindi... Cercherò di rimanere... Il più... No... La riscipenza... Mi spaventa... Fa Covenante... Covenante sul secondo... Se partiamo dal presupposto che ti spaventa per l'opinione altrui... No... Mi spaventa per la grandezza di roba... Cioè i primi 10 minuti... No... Lì... Va fatto Covenante sul più puntato... Eh... È brava... Perché guarda... I primi 10 minuti... Ho già solo la puntata per quello... È che Cristo... Cioè... Già l'esistenzialismo... Fine... Basta... Chiude puntata... Che poi puoi chiudere anche così... Cioè... Puoi chiudere... Sì... Sì... Covenante si può veramente chiudere nei primi 10 minuti... È un prologo... Cioè... È l'alfa e l'ombra... Esatto... Esatto... Sì... Bella bella intuizione... Sì... Perché è proprio lì... Cioè... Può parlare di Covenante nei primi 10 minuti... E guarda che non è un'idea malvagia... Anche perché... Cioè... Il tema portante è la creazione... Sì... È proprio la creatività... La spinta d'interiore... E poi qual è la genialità di quel prologo... Perché ti mette... Nel punto di vista del creatore e del creato... Sì... Che è sua volta poi... E di una creazione... Aspetta di una creazione viva... Perché poi c'è un'altra creazione... Il creato... Il David... Il quanto natura... Esatto... Poi c'è il David... C'è il dipinto della natività... C'è la sede di Bugatti... C'è il trono di Bugatti... No... Vabbè... No dai... Se noi non cominciamo a parlare... Ora di Covenante è finita... Poi davvero si fa... No si spara troppe cartucce... Si si spara troppe cartucce... No... Ma ritornando quindi... Malentrè io ripeto... Per me... Rimarrà sempre... Non un capitolo sottovalutato... Perché posso capire che... Mi dispiace... Mi dispiace che... Non sia venuto fuori più cose... Più cose... C'era uno che aveva detto... Mi ricordo... Ma sai una critica alla religione di Fincher... Ma a parte la religione... Ce la vedete altre voi... Perché non è una religione... Ma è un collegamento più spirituale... Una credenza spirituale... Sì... Basato sul fondamentalismo cristiano... Ho capito... Ma non è la religione... Anche qui sono curiosa di sapere... Qual è la traduzione in inglese... Perché... Eh sì... Poi critica... Ma critica che... Semmai sti visti sozzervati... Hanno trovato la spinta... La forza di fare... Quindi... Cosa critica... Cioè... Vedi una roba del genere... Io direi a questo qui... Che vede una roba del genere... Ma te la trovi sottovasa... Ma a te ti sembra una creatura del... Una creatura... Normale... O qualcosa di luciferino... Di diabolio... No... Un lusso... Sai... Io poi... Che poi ricordiamo la reazione che ha avuto... Quello lì che rimane alla fine con lei... Non mi ricordo... Mors... Sì sì... A questo c'è ribasto... Mors la voleva prendere... E dare all'alien... Sì... Perché... Sì... E poi fa... Se non è questa una crescita... Sì sì... Esatto... Che poi alla fine l'aiuto... E poi al punto di dice... Sì... Avete fatto così... Vi spuntano tutti... Quindi un uomo... Inacculturato... E... Ci scrive un libro... Cioè... Mazza... E arriva alla fine... Che... Alla fine di questo libro... Lì... Dice... Che non crede più in Dio... Non crede più in Dio... Perché lì c'è il crollo... Definitivo... Della fede... Perché vedi una cosa del genere... Dici... Qui... Non c'è Dio... C'è qualcosa di peggio... Perché... Lì ti dice... Se è successo questo... Capito... Cosa c'è... E lì ti fa tante domande... Perché ti devi considerare anche... Che sei nel contesto spaziale... Quindi l'uomo dentro di sé... Ha sempre voluto vedere Dio... Nelle stelle... Lui ci ha visto un demone... Cioè... Non so se mi spiego... Sai cosa... Capisci che meccanismo... Nella testa si può inserire in un uomo... Che non crede più in una cosa... Ma comincia a pensare che ci sia ben altro... Quindi la profondità... La profondità... Personaggio quindi anche qui... Cosa c'è da dire... Ora parliamoci chiaro... Ora io... Sto smontando uno dei miei capitoli più belli... Lambert... Ti piange dalla mattina alla sera... Nel primo... La Lambert è insupportabile... L'avevi preso a spicchi... Da ora fino a domande... Per dire... Dalla ste timore nei tubi... E... Oh... Chi c'è... Parker... Ash... Replay... C'è... Chiaro... Solo loro... Grande Parker con cazzotto nei reni... All'Alien... Quindi per dire... Ecco perché mi tengo Allian 3 superiore ad Allian 2... Mamma mia se lo dici ti sparano... No mi piacciono... Mi piacciono perché comunque... Tu lo ritieni superiore... E hai dato però... Tante motivazioni... E quindi... Chi... Vuole... Controbattere... È dura eh... Deve... Deve fornirne altrettante... Perché uno dice... Eh ma me è un garba per questo... Sì ho capito... Ma bisogna fornire motivazioni valide... Quindi qui avete... Un'opportunità per rivedervi Alien 3... Con uno sguardo... Diverso... Magari... Magari... Magari la nostra sono tutte cazzate... Non dico mica che... Io dico... Ma voi ci avete apito un cavolo... Io ci ho capito... No magari... Però... Provate a vederlo con questa cosa... E ci si può anche... Poi riflettere successivamente... Perché questo tanto... Andrà... Anche... Nel nostro canale... Il canale rosso... Diciamo così... E... Perché bisogna così di così... Sennò poi si prendono a picchi... Loro due... Sì... E quindi... Lo troverete il VOD... Anzi... Attendo... Mi piacerebbe un commento... E quando vi troverete questo video... Credo che vi troverete tutta... La... Tutta la... La... La stagione completa... Anche se credo che questa stagione... Come l'ho programmata... Durerà un bel po'... Anche perché... Non è finita qui... Credo... Forse andiamo veramente sull'anno... Perché bisogna... Bisogna veramente parlare di... Troppe tante cose... E... C'è troppo tanto materiale... Su cui parlare... Sì... Poi... Cioè... Scott è stato un fuori di testa... In senso positivo perché... È riuscito... A prendere l'alien... A fartelo amare... E altrettanto... Crearti David... E David è la sua creazione... Ragazzi... Ragazzi... Qua... Qua ci troviamo... Sia un genio... Perché David non lo puoi odiare... Ma non perché... Dici si cazzo... Guardare sta... Ma è un fiction... È una cosa che è... È normale... Dici... Dei... Ma ti avessero ammazzato... E ho capito ragazzi... È un firme... Ma ragazzi... Ma che opera maestosa è... Ecco... E che opera maestosa è l'alien... Perché... L'alien... Ed è sempre descritto così... A livello emotivo... Di chi si trova di fronte l'alien... Chi subisce... Il famoso abbraccio finale... Non prova emozioni negative... Prova... Quasi un'estasi... Un'emozione positiva... Delle cose molto belle... Stranissima anche sta cosa... E quando uno vede l'alien... A parte l'urlo... Eccetera... Molte volte... L'ha visto si fermano... Perché ammirano... Sì... Sì... Quindi c'è questa ammirazione... Ma allo stesso tempo... Questo odio... Questa repulsione... Cioè riesce a contenere il tutto... E per questo che dico... Cazzo ragazzi... Attenti con Alien 5... Perché è grossa... Qui da fa una cazzata... E fa l'alieno... E sputa acide... E... Alien 5... C'è... Alien proprio... Ragazzi... Io ringrazio... Puntata incredibile... Questa perché... Ora... Veramente George... Si sta anche sciogliendo di più... Ed è... E meno male... Perché sono venute fuori... Delle cose che... Mamma mia... Sono state veramente ottime... Ti faccio complimenti... E ti ringrazio... Per queste cose che hai condiviso... E... Io vi do l'appuntamento... Non a domani... Ma domani l'altro... Dove parleremo di... Alien... La Ressurrezione... Il quarto capitolo... Un capitolo che... Rivedrò... Così si ne ragiona a caldo... Te la prima... Lo vedrai... Lo vedrai per la prima volta? Allora... Ho visto qualcosa... Però... C'è... Molto vago... Via... Sì... Sì... Ok... Quindi lo vedrà la prima volta... Dai... Cioè... A parte anche immagine... C'è... Anticipo subito... Che la parte... Con... Con... Con lo newborn... Sì... Con lo newborn... Ragazzi... Per me è una stretta... Sempre al cuore... Sì... Eh... Sì... Bella... Bella... Analizzeremo anche quello... Parleremo che lì... È proprio bello... Anche lì... Le fan arti che hanno fatto... Di quella cosa... La creazione... Di questo... Di questo... Di questa creatura... E... Sì... È vero... Quindi... Ci prepareremo... Psicologicamente... Sì... Però... 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 Siamo... Siamo positivi... Sulla visione di quel film... Perché... Ripeto... Comunque... È un film bello... A livello di fantascienza... È bello... E... Quindi... Non c'è niente da dire... Se non... Ripeto... Vi ringrazio... Che siete passati... Che è passato... Anche... Ha dato un'occhiata veloce... E vi do l'appuntamento... A domani l'altro... Ciao... Ciao a tutti... Ciao...